Sto registrando, Marghe. Non aspetta. Happy birthday to you! Aspetta, taglia. Che cazzo è? Hai mai tagliato? Nooo! Ma io non ho detto che ho detto che ho perduto. Ma è di pasta frollo? Si, è più piccola la fetta. Senti io che non si tagli le dita. Aspetta. Questo è Carlo Armato. Questa è Susanna. Questa è Teletubbies. Maffi salificate sulla testa. O te la sta trombando? Non ci vuole! Marghe, tagli! Taglia, ma che hai tagliato la testa! Taglia, Marghe! Taglia! Senza dei puffi! La Giulia! Scusa, sono stata io? No, non è te. Aspetta, le tiriamo via e mettiamo le taglite tutte intanto. Facciamo uno zoom sulle testa di Giulia. Toglierà male! Ma non è che bisogna andare in un college per tagliare una fetta di zotta! Scusa, questo qui non è mancato lo su qui! Sì! Sì! Faccia via la mano! Dai! Dai! E' una muscia! E' una muscia! E' una muscia! E' una muscia! Ecco perché è così! Se mi fredda una fitta! Stamani! E' meno pausa! Come fai che dite? Se mi fredda! No, no! E' una muscia! No, no! E' una muscia! E' un po' tranquillo, ne voce! E'dora ci sono fredda! E' una muscia! E' una muscia! E' una muscia! come si fa? impiattare, mettere nel piatto vuol dire a casa mia vedi? vedi? miss! miss lavoriamo nella pasticceria dei buffi vero? eh si no, lei lavora una poca negra poca negra poca negra eh scusa eh eh fammi una zumba con la maglia un attimo che c'è la testa di nico tra le palle ahahahahah guardate le maglie guardate le maglie guardate le maglie guardate le maglie guardate la sporca vai le sporci la maglia guardate la sporca dici a nove faccio vedere le maglie bellissima era la strada si bella faccio vedere dai guardate mai guardate mai no 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 l era in grattina vai rimanore ma che ci fuggi con il marco da metri c'è poi il teglia e l'administratore il la idea roma il oltre albighi no no il l'acqua l'acqua si e si dai che schifo va bene che fa andare in soletta ma è un po' d'acqua un bel po' d'acqua si chiede che è un mio piatto hai fatto quando viene ora siamo un'equipo nel superfetto no ehi beh ti hai fatto i ballonbini che li vuoi pulire girati ma sono pulita forse forse non mi scusa 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 su fattore dai 325 oh cattroia merito prima che finisca però